Vieni. Ciao Chiara, benvenuta. Benvenuta. Alice, volevi dire una cosa a Paolo Belli, tu perché scuola, accomodati, no? Perché Alice, se no poi dopo se la prende con me. Che volevi dire a Paolo Belli? No, niente di particolare, dico solo grazie. Grazie, va bene. Ma l'avevi già detto, non glielo avevi detto bene? Va bene. Allora Chiara, benvenuta. Grazie. Oggi è un altro giorno, però tu stai a memoria La frase più famosa di Via Colvento, che è domani un altro giorno E però passa attraverso quando Rossella Guara torna a Tara È povera, tutto il suo mondo è distrutto Non c'è niente da mangiare Non c'è niente da mangiare, lei prende un pezzo di terra e mangia una radice E poi cosa dice? Giuro davanti a Dio e Dio mi è testimone Che i nordisti non mi avranno La mia famiglia non patirà mai più la fame Dovessi rubare, truffare, mentire o uccidere la mia famiglia Non soffrirà più la fame Frase che mia madre mi ripeteva ogni volta che pelava le carote E quindi io l'ho imparata a memoria Quando ero bambina E Rossella Guara vive dentro di me Da ancora prima che io nascessi in realtà Perché avevo poi una zia che molto Cioè una zia di mia madre in realtà Che molto prima di Rossella Guara Ha fatto questa cosa geniale Di prendere delle tende e trasformarle in un vestito Quindi più via col vento di così Quando lei si mette le tendi verdi E va da retto per chiedergli un prestito Poi lui se ne accorge che in realtà vuole solo i soldi E quindi lui l'ha moratissimo di lei Vabbè ma che ve lo dico a fare Se non l'avete visto via col vento E non avete letto il libro che io ho lessi da ragazzina Cioè proprio cosa campate a fare? Libro che ha un incipit strepitoso Perché volta tutto il film Perché ti dice Nessuno si accorgeva delle dranne Rossella Laura non era una bellezza Bravissima Ma pochi se ne accorgevano A meno che come Gemelli Tarleton Subivano il suo fascino Una roba così Mi sa che sei più brava di me A ripeter a me Maria Yance Allora strega comanda colore Ci sono un po' di streghe in questo libro Siamo partiti da questa frase Sul non soffrirò la fame Perché questa è anche un po' La storia della tua famiglia Tu sei oggi stilosissima E super attenta Look vestiti Anche tu Vabbè ma quello Già voglio dire È il nostro spazio di fuga Se fossimo tutta testa Figlia mia Chiara mia Non andremo lontane E saremo molto tristi Perché tu sei cresciuto in una famiglia Dove l'elemento denaro Era una tragedia Sì e l'ho infilato anche nel libro Ovviamente come tutti i libri Tutto quello che è steso Sulla pagina letteraria Diventa già di per sé finzione Perché quando noi Ricordiamo la nostra vita La distruggiamo La manipoliamo in qualche modo Dunque ci sono moltissime cose Che partono da me E arrivano altrove Ma c'è un elemento comune Che è legato al fatto che Come in molte famiglie Non abbienti del nord Italia La mia famiglia si muoveva Sullo spirito del sacrificio E dell'abnegazione Dunque le cose belle Le cose preziose Che venivano donate Alle festi ricorrenti Per i compleanni Per i natali La frase era sempre Ma non dovevi Non dovevi spendere soldi E quelle cose belle Venivano messe nei cassettoni Venivano tenute sotto cielo Perché potevano rovinarsi Potevano guastarsi Dunque era come se Ci si preparasse sempre Non per la vita Ma per la morte Mi ricordo ancora Che avevamo regalato Un pigiama molto bello A mia nonna E lei diceva Questo lo tengo per l'ospedale È un grande classico però La camicia da notte Per l'ospedale È un grande classico Anche in Puglia Tua nonna Io ho un marito pugliese E mi dice che questo Valeva anche per la Puglia Saludiamo Nicola La gioia Salone del libro Eccetera eccetera Sì che è già lì Stanno fremendo i preparativi Io vado Questo fine settimana Ci vedremo Ci vedremo Però quindi C'è anche questo esempio C'è tua nonna Io dico tua nonna Poi ovviamente Tutto rielaborato No però Un po' di pezzo di te C'è in questo libro C'è molto di me Anche perché i nomi sono uguali No Nonna Viviana Che non faceva No la nonna Non si chiamava così Però nel libro Si chiama Viviana Perché l'ho resa Anche più scellerata Molto più scellerata Di com'era Quindi giustamente Non essendo più lei Ho cambiato il nome Giusto Mentre mia sorella Si chiama davvero Sara E il mio amore Che è l'amore della protagonista Si chiama Nicola Perché quando ho dovuto pensare A un amore Ho pensato a lui E quindi no Madonna Viviana Appunto ad esempio Vietava di utilizzare la lavatrice Ma perché? Perché si Si consumava elettricità E quindi la macchia A un certo punto Tua mamma O chi per lei Che deve lavare Le lenzuole a mano Questa è una scena Molto Molto forte Che c'è nel libro Sempre per il fatto Che le cose possono Guastarsi Dunque Vanno Vanno tenute integre Non si deve utilizzare nulla E quindi c'è questa madre Della protagonista Che lava l'enzuola nella vasca La figlia la vede E vuole riscattarla Questo è un libro Quando tu l'hai presentato Hai detto una parola Molto importante Di emancipazione Di riscatto Ma anche di riparazione E liberazione Ci si chiede Che cosa siamo disposti a fare A volte Per vendicare Chi amiamo La protagonista È una ragazzina Che cresce affamata Vuole la bellezza Vuole l'amore Ma vuole soprattutto Il denaro Perché nel libro C'è questa nonna Piuttosto crudele Che tiene in scacco La famiglia Colpì di ferocia Il denaro Per lei È potere E il potere È controllo Dunque questa ragazzina Pensa Se io avrò denaro Libererò Dalle briglia Da questa malia Da questo incantesimo I genitori Che lei ama Che ama tantissimo E a un certo punto Decide di trasformarsi Nella Robin Hood Di Piacenza Perché il romanzo È ambientato Nel luogo in cui Io sono nata E cresciuta Nella bassa padana E lei dice Rubo i ricchi Per dare a me E decide anche Che avrà Guanti di capretto E fiori freschi E candelabri d'argento Che è bellissimo A colazione Perché lei vuole La bellezza Come scialuppa Di salvataggio Tutte noi In fondo Quando parlavamo Di abiti Non bisogna mai Confondere La leggerezza Con la superficialità E la bellezza Può realmente Essere una Scialuppa Di salvataggio Oltre che Diciamo La leggerezza Oltre a essere Una scialuppa Di salvataggio È quella che ci consente Anche di non prenderci Mai troppo sul serio Perché altrimenti Saremo condannate Al soffoco No? Immagino appunto Nascere in una casa Incelofanata Raggella tutto Perché la vita Va divorata Se tu Non puoi neanche Sederti su una poltrona Perché la rovini Come farai A sfidare l'esistenza Bravissima Senti Che ti volevo E poi la prototista Si compra la borsa firmata Giustamente Appena i soldi La prima cosa che fa Rinuncio a tutto Rinuncio al cibo Ma non le borse firmate Però attenzione Non è consumismo È Niente È un modo personale Di vivere La propria Affermazione Sì Perché Oggi se tu non ce le avessi Le borse firmate Ora che sei una donna risolta Ti darebbe fastidio Ti sentiresti Sono una donna grande E dunque sono riuscita A comprendere molte cose Io penso che la rabbia Nella nostra vita Sia un sentimento necessario Perché a volte la rabbia Riesce a darti uno sprint In più rispetto all'amore Ma quella rabbia lì A un certo punto Te la devi scrollare di dosso E lo puoi fare Attraverso la comprensione Con la comprensione Puoi avere la tenerezza Dunque adesso Non ne avrai più bisogno Bene Perché poi ci si emancipano Ma anche da quello Che ci ha consentito Di emanciparsi Per essere veramente liberi È così A te ti ha aiutato l'amore? Sì Ma l'amore io penso Che salvi sempre In qualche modo L'amore è verso se stessi Perché Non so tu Ma io ho sofferto Per anni Di due sindromi Quello del peggior trattamento Perché pensavo Che gli altri Stavano sempre facendo qualcosa Di molto migliore Rispetto a quello Che stavo facendo io E quello dell'impostora Che è una sindrome Che riguarda moltissime donne Che ci fa sempre E sentire inadeguate Che dobbiamo sempre dimostrare Di valere di più È la sindrome famosa Di Ginger Rogers Che deve saper fare Le stesse cose Di Fred Astaire E all'indietro E io per anni Sono riuscita a ballare All'indietro E su tacchi a spillo Per dimostrare Che ero capace E siamo ancora In una posizione Di invisibilità Nonostante tutti Gli sforzi Che facciamo Mi occupo Moltissimo Di racconti Di donne Abrasive Scomode Scomode socialmente Con Michela Murgia Con Morgana Raccontiamo Molte donne Spaventose Perché non vogliono più Essere spaventate In qualche modo La protagonista Di Strega Comanda Colore È una ragazzina Piuttosto spaventosa È una ragazzina Che potrebbe In qualche modo Anche quasi rischiare Di diventare Un'assassina Chi lo sa Di nuovo Per amore Questo lo scoprirete Se leggerete Anche perché poi Le streghe nella storia Sono spesso state donne Che erano avanti E che non venivano comprese Ergo messe a rogo Un'ultima cosa Perché nella storia C'è anche la tragedia Di tuo fratello maggiore Non so se sia vera o no Giuseppino Che muore subito Dopo la nascita Immagino che anche questo Condizioni Abbia condizionato La tua vita Se è vero È vero C'era Proust Che diceva Che lui ricercava Il tempo perduto Io lo volevo riscattare Anche Giuseppino? Anche Perché Questo capitolo Nel libro si chiama Mio fratello È un angelo di gesso Io l'ho conosciuto Al cimitero Ho conosciuto La sua tomba Da mia madre Sempre pulita E c'erano sempre Ci sono sempre Fiori freschi Lei lo amava molto E ci parlava di lui Come Del bellissimo bambino Che sarebbe diventato Un bellissimo uomo Poi Dopo Giuseppino Che si chiamava Proprio così C'è stata Sara Mia sorella Infine Sono arrivata io E io volevo Con strega comanda colore In qualche modo Dare una seconda sepoltura Ai miei morti Non so voi Ma Quando una persona Vive un dolore Molto forte Quando una persona Perde Io perso mio padre Che ero ragazzina E non mi rendevo Quasi conto di niente Quando sei a contatto Con qualcosa di irreversibile Per cui la tua vita Da quel momento Cambia E non sarà mai più E non sarà mai più come prima E davanti a te A tavola C'è un vuoto E vedi che tutto va in pezzi L'unica cosa che tu puoi fare È cercare di ripararti E di riparare Le persone che hai attorno Perché le tenebre Sono per chi resta Perché chi è andato via Probabilmente Ha trovato un posto Dove stare meglio Ma sei tu Che devi liberarti Dalle tenebre E dunque Mia madre Che si è occupata E si occupa Da tutta la vita Indifferentemente Dei vivi E dei morti Con la stessa cura E con lo stesso amore Ci parlava di Giuseppino E io in questo libro Ho cercato Di recuperare un passato Che mi inghiottiva Mi mancavano tantissimi pezzi Della mia storia La mia mamma È grande Come si chiama tua mamma? Si chiama Anna Lucia So che ci sta guardando Salutiamo Anna Lucia Mi starà tremando Perché lei è sempre Molto riparata E beh perché ansiosa Nei vostri confronti Magari Non so Vi vuole proteggere Certamente Anna Lucia Chiara ha fatto Una figura straordinaria È bravissima È super intelligente Leggete Strega Comanda Colore Edizione Mondadori È veramente Una donna In gamba Una ragazza Irresistibile E poi Ha degli stivali favolosi Grazie Grazie Chiara Grande testa Grazie È infinito È grande